Il Modica Calcio affronterà domani il Mega Ragusa per la gara valida come terza giornata di campionato di promozione. Sarà un match giocato fuori casa per i Tigrotti di Franco Rappocciolo, reduci del successo della partita precedente contro lo Sporting Obea, giocata allo stadio Vincenzo Barone e conclusa con un 1-0 per il Rosso Blu grazie alla rete firmata Caccamo. Sempre in promozione, domenica Ragusa Calcio affronterà Enna allo stadio generale Gaeta, match in trasferta anche per il Frigentini che scenderà in campo contro il Floridia. In eccellenza tra le muramiche dell'Aldo Campo si svolterà il match tra Marina di Ragusa e Camaro, mentre il Santa Croce è match in trasferta contro il Terme Vigliatore.